ok buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti siamo live con Marcello Ascani come potete vedere ciao Marcello grazie di aver di aver accettato di aver ospitato il nostro accetto stavo dicendo vedi c'è l'emozione di aver accettato il nostro la nostra ospitata per noi è un onore un piacere eh averti qui eh oggi tanti temi sul tavolo tu sei una lo possiamo dire sei una web star sono uno youtuber sono uno youtuber nessuno ecco non ti offendi ormai tempo fa dare dello youtuber a qualcuno era un po' dargli del cazzaro del ragazzino invece in realtà tu spiegavi in un tuo video che lo youtuber è un lavoro dicevi come fare il report come fare il giornalista l'avvocato sì ma io dico sempre che youtuber è chi fa vero su youtube poi puoi essere un cretino puoi essere bravo non me ne sono mai vergognato ci mancherebbe io a questo punto parto subito partendo perché ovviamente tanti già ti conoscono tu hai mezzo milione di iscritti sul tubo sei attivo io ho visto il tuo canale risulta tu risulti iscritto dal 2011 sei del 97 cioè ti fai due calcoli 13 anni 13 14 13 ecco come è iniziata questa questa piacevole malattia mentale che abbiamo noi insomma che comunichiamo online come è iniziata quando è partita lo racconti a chi non ti conosce o non conosce questo dettaglio certo certo un racconto che faccio spesso anche se ogni volta che lo faccio faccio ancora un passo indietro quindi adesso esatto esatto io ho conosciuto youtube intorno ai 12 13 anni che era proprio una roba sconosciuta seguivo in italia will ush che era l'unico youtuber non esistevano altri sì sì lui era proprio e poi seguivo quelli americani anche se non capivo bene l'inglese però mi piaceva vederli diciamo non capivo non comprendevo poi se erano attori pagati se era un programma televisivo messo su youtube non sapevo io stesso di poter caricare a 13 anni con un altro canale e un mio compagno di classe mi disse guarda che puoi caricare anche tu le cose su youtube possono farlo tutti scoperta questa scoperta che ho aperto il canale non avendo niente da pubblicare al tempo c'era l'opzione particola webcam quindi tu andavi su carica un video e c'era carica un video dal tuo computer oppure registra una roba con la webcam e quindi facevo così e stavo là fisso a fissare la webcam a capire cosa stavo facendo e ho pubblicato due tre video del genere e poi ho ricaricato video di parkour che trovavo online non so perché mi ricaricavi questo moltissima soprattutto i primi tempi youtube era questo era ricaricare video online youtube ricordi io sono un po più grande di teo dieci anni più te sono dell'86 ricordo proprio gli inizi di youtube e qui vado a bomba su un'altra domanda ma secondo te negli ultimi negli anni negli ultimi dieci anni come è cambiato youtube e cosa se te è cambiato in meglio in youtube e se c'è qualcosa che se te è cambiato in peggio della piattaforma è nel passare di fasi diciamo che inizialmente era video divertenti e gattini e cose del genere più musica era tutto musica tanta musica molta musica sì poi con l'avvento di spotify del resto sempre meno sarà la gente che l'utilizzato solo per la musica e sono esplosi tutti i video comici e molto comedy era principalmente come di parrucche quindi quando sono partito io per esempio il luogo 13 will wish e i scherzi telefonici esatto esatto e comunque tanta tanti video toriamo magari vedi 15 secondi che succede una cosa divertente tipo un atto che cade una cosa del genere e poi piano piano la gente ha iniziato a comunicare sempre di più c'è da dire che i l'idea di lavorarci poi è arrivata molto molto tardi cioè è arrivata dopo che io ho iniziato a fare video su youtube per esempio e quindi una volta che si sono tutti più professionalizzati che è arrivato un nuovo pubblico su youtube si è trasformato in quello che adesso e adesso è una seconda televisione specialmente negli stati uniti è una seconda televisione è un concorrente di netflix ormai giocano sul stesso campo se tu spiegavi anche il video dove spiegare i tuoi guadagni che come al solito devi poi fare differenziazioni tra mercato italiano mercato americano o comunque anglofono perché se tu hai un mercato anglofono ecco è world wild praticamente mercato questo pare per ogni tipo di business anche per il lavoro di youtuber sicuramente se tu facessi tanti video in inglese potrei sempre la tua la tua base la tua customer base ma se ti segui cioè a patto che partire oggi da zero su youtube ecco c'è chi lancia i corsi no su youtube spiega come fare l'igeneration con youtube spiega anche a te che evidentemente dice non lo sai fare come fare soldi su youtube partire oggi da zero tu quanto tempo ci hai messo a costruire la tua community e quanto secondo te hanno inciso le tue doti la tua vocazione che tu sei sembri nato per fare questo lavoro hai il viso giusto la voce giusta i tempi giusti monti un certo modo quindi ci vuoi io sono convinto che ci sia sempre una forma di talento no di base che nessuno ti può insegnare quindi disponi a questa domanda quanto ci hai messo e quanto pensi sia difficile oggi per tua esperienza partire da zero diciamo che io parto da zero voglio fare un youtuber nel 2021 ok ok allora io sono partito come dicevo in realtà per davvero 15 anni quindi parecchio dopo poi la mia scoperta e per ragioni proprio di archivio storico ho lasciato pubblici tanti video che ho fatto al tempo quindi se vai sul mio canale e metti dalmeno recente proprio per tutto il percorso che ho fatto quindi tanta gente mi chiede ma come fatto a fare questo quest'altra cosa io dico sempre guarda è tutto pubblico guardati l'archivio io partito che volevo fare sono partito che volevo fare il pittore quindi mettevo i miei speed drawing mettevo i miei disegni e non mi si cagava nessuno poi il format con cui sono partito è stato quello dei delle animazioni quindi facevo dei piccoli cartoni animati dove raccontavo la mia vita sono stati tre anni e la ha funzionato per una serie di motivi ha funzionato perché ancora c'era poca concorrenza perché io copiavo alla fine un format che già facevano negli stati uniti che era bello testato quindi la parte strategica non l'ho fatta io l'ho copiata e basta la parte tecnica invece sarà difficile imparare a fare animazioni è stato difficile creare una community perché non avendo strategia quando mi sono diciamo rotto di passare tutto il giorno a fare animazioni davanti la tavoletta grafica perché non era più la mia vocazione ho detto cacchio come faccio adesso non sapevo come convertire quel pubblico un nuovo pubblico è stato un bagno di sangue ed è là che ho scoperto qual era la strategia per crescere su youtube e ho sbagliato 500 volte dal 2016 al 2018 non ho fatto altro che sbagliare e comunque avevo già 100.000 iscritti però stavo cercando di prendermi con i vecchi e comunque per ritrasformarli e poi dal 2018 in poi ho ingranato ho capito e da lì è da lì che hai iniziato a ad avere il boost vero cioè prima hai fatto tanti errori tentativi non ti sei dato per vinto il mindset dovresti fare subito un corso su mindset quindi non ti sei dato per vinto hai sbagliato hai fallito hai riprovato e dal 2018 hai iniziato a ingrane quindi hai visto esplodere la allora non sono mai esploso nel senso che come dicevo anche al liceo ero cresciuto con quel primo format e inoltre se faccio il mio canale trovi un video che è il ringraziamento dei 100 iscritti quindi io sgotevo anche dei piccoli traguardi ero veramente contento di avere 100 iscritti come ero veramente contento di avere le 1000 anzi per me i 1000 iscritti erano un po ce l'ho fatta quindi questo mi dava poi la sicurezza la motivazione di continuare e adesso è molto diverso quindi tu mi chiedi quanto è difficile adesso crescere su youtube in realtà per alcune persone diventa molto facile perché basta essere competenti in degli argomenti che non sono molto trattati su youtube io ho un'amica che si chiama giulia e la conosco da un sacco di tempo lei lavora nel campo della della skin care è una della cosmetica in ambito chimico quindi è un'esperta e non si è mai esposta su youtube da quattro mesi ha aperto un canale che si chiama tiger julie e lei che parla di skin care e basta solo che non essendoci competizione essendo lei l'unica persona competente a verlo tecnico esplode in questi quattro mesi come ricordiamo un po i canali esplodevano nel 2013 no? hai detto vedi è possibile cioè lo stesso schema gli ingredienti è sempre lo stesso gli ingredienti più o meno sono sempre gli stessi banali se vogliamo sì sì allora youtube non è non ci sono segreti cioè io per esempio ho anch'io il mio la mia area membri a pagamento dove dico come crescere su youtube ma la verità è che le regole che sono valide per tutti sono super intuitive super semplici e il problema è poi doverle applicare non c'è quel segretino su altri social esiste il modo di faticare meno e avere risultati più alti ok per esempio su instagram ci sono tanti anche se investi i soldi su youtube si sa si sa che devi faticare e quindi per esempio questa tiger julie ha tratto beneficio dal fatto di essere una persona competente in quell'argomento di parlare di un argomento che era abbastanza libero e questo poi l'ha dato la possibilità di crescere rispettando anche tutta un'altra serie di strategie intuitive quando c'è stato quindi lo switch quando ti senti dire c'è stato fatto lo switch dove io sono diventato fatto per lavoro lo youtuber quindi ho fatto e poi quanto ti è costato in termini economici orientativi non è che mi ci devi fare la contabilità il questo switch allora io in quinto liceo avendo imparato a fare animazioni facevo video su commissione quindi ho fatto dei video perde per quelle banche sfruttando le connessioni di sfruttando le connessioni dei miei professori tra l'altro che avevano scoperto che facevo questi video e la moglie di un professore lavorava in banca e mi ha chiesto di fare alcuni video su commissione e io a me cioè 100 euro per me erano tantissimi ovviamente quindi io già l'aero dicevo ok ho trovato un lavoro eccetera eccetera dopo il quinto liceo stavo ragionando sul fare o non fare l'università ho deciso di non farla seguendo un po le orme dei miei amici youtuber più grandi di me e quindi dai 19 anni in poi sono diventato un youtuber poi il mio primo anno di passiva ho fatturato 20 mila euro ma la pena c'è non era tantissimo e lavorato poco infelicevamente ad sense di youtube è una collaborazione il vero anno di lavoro è stato i miei 20 anni che connessato il 2000 17 quindi cinque anni fa e quattro anni fa scusa il 2017 esatto perché ho firmato poi con un'agenzia brava che con l'agenzia il 90 per cento delle volte sbagli se sono youtube e che avevano un po io poi ero già cresciuto su youtube quindi ovviamente per loro era più facile dedicarmi attenzioni non era un investimento da parte loro e quindi mi hanno dico attenzioni mi hanno anche un po insegnato a lavorare nel campo di influencer marketing quindi a gestire bene i rapporti perché questo ci sono youtuber che magari hanno numeri alti ma se non sanno come si lavora magari non riescono a monetizzare bene e al contrario ci sono youtuber con meno numeri di me ma magari sono nel giro e quindi sanno lavorano tanto e sanno lavorare e quindi il vero primo primo anno che dico questo è il mio lavoro ne sono sicuro al cento per cento è stato i miei il 2017 sì io ne conosco uno e fa parte di una nicchia particolare che ha 20 mila iscritti 23 quindi non è però fa più o meno le cifre che mi hai chiedito tu perché poi dipende tu dicevi molto dipende dal settore dipende dalla nicchia dipende dalle collaborazioni che hai dipende da tante cose poi il covid ha un po' sparigliato le carte su molti cose mi hai detto no il covid per il momento per fortuna non l'ho sentito però purtroppo ha rovinato un po' di piani che avevo di viaggio perché tu poi ecco nella tu in che nicchia magari una domanda banale la nicchia è travel youtuber cioè se fai il tuo coro sono video di viaggio anche se tu ti sei fuori tante cose dalla dieta no esatto come ti senti come ti inquadri se ti inquadri io sono proprio lo youtuber in senso classico avendo avuto la fortuna di essere cresciuto dal 2013 in poi e quindi essermi costruito una community nel tempo piano piano non ho avuto la netta di diventare troppo di cuore cosa che adesso è fondamentale per crescere e quindi io sono marcella scania sul mio canale io racconto la mia vita e cercando di essere utile le persone che mi seguono e il discorso dei viaggi per esempio è un aspetto del mio posizionamento diciamo che io sono 40 per cento viaggi 40 per cento lifestyle quindi che significa crescita personale significa disciplina i libri che lego tutte le cose e 20 per cento si arriva al cento e 20 per cento finanza personale fino alla nicchia finance ok quindi non sono molto di settore cioè non sono sbilanciato sui viaggi il viaggio al contorno ecco vedi non è così aspetta che se ne sei andato sei frizzato no mannaggia aspetta sei tornato guarda diciamo prima tu hai la fibra in questi giorni ci sono le macumbe in questi giorni stai avendo problemi di linea col telefono con la linea fissa e quindi prima pure prima ci siamo dovuti un po' barcamenare adesso ti vediamo poi dici no io forse gli ultimi forse i video che ho visto io che ho apprezzato il più vedi poi ogni ognuno vedi ti percepisce allora io ho visto i video di finanze video di però quelli che mi sono piaciuti più e io ti inquadro come blogger che il youtuber che viaggia ok io io personalmente quindi io rientro no in quella nicchia che ti segue per quello qui tu cerchi di variare scusami la differenza è che il mio video di viaggio non c'è l'itinerario cioè non ti insegno a viaggiare non c'è la guida di viaggio è sempre la mia esperienza sempre storytelling storytelling c'è una domanda che ti voglio fare subito da parte nostri di uno dei nostri video ascoltatori come è stata la reazione della gente a te vicina quando hai deciso questa domanda l'hanno fatto penso mille volte in tempo se c'è stata se ti hanno detto fai come vuoi un po di preoccupazione come come è stata la reazione ma in realtà mi hanno tutti dato molta fiducia perché sono stato un po non tantissimo ma un po precoce quindi già in quinto lì c'erano tutti per lavorare quindi non c'è stato il salto di fede che fanno molti quindi sono stato fortunato cioè non è riecco come raccontano alcuni guru il ragazzo che andava male a scuola perché non aveva voglia di studiare non era portato per lo studio e diceva beh basta visto che vado male a scuola da domani non mi non vado più a scuola lascio a scuola e mi invento un business da zero oggi sono cose molto diverse questo giusto vedi è una cosa che cosa era un secchione io sono uscito quindi tu andavi bene a scuola hai fatto il classico giusto tu no ti piacerebbe fatto l'artistico l'artistico giusto l'artistico sì sì però era un secchione comunque era un secchione all'artistico ok ma poi guarda io penso che questi studi alberghiero artista sono studi che se fatti bene sono eccezionali sono bellissimi perché sono molto pratici per coltivare no le tue passioni si vuole fare l'artista sì cioè io volevo fare l'artista e io ho fatto figurativo è scultura e pittura io disegnavo tre tre ore al giorno la modella nuda sul sul coso ho imparato l'hai fatto poi lascia perdere che diventare artista nel 2020 2020 2018 2016 non è ma non è non è mai stato facile in realtà però dici tu per chi ha le idee chiare e tu vedi in questo eri un predestinato nel senso che ok adesso fai lo youtuber però è una forma d'arte una forma di creazione e di presentazione al pubblico di qualcosa che hai dentro che tu vuoi fare sì 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 adesso più passa il tempo più mi dimentico che si tratta comunque di creatività perché sai diventa sempre più strategia macchinoso ma in realtà è creatività è storytelling è trasmettere emozioni è fare appunto emozionare le persone che ti guardano ispirarle è esattamente arte tra l'altro non è neanche così difficile di essere artisti invece in senso classico perché io poi ho anche pensato ma se invece voglio fare lo scultore il mio compagno di banco è uno scultore a tempo pieno adesso e si diverte lo fa di lavoro lo fa di lavoro hai seguito tu dei corsi ecco ci stiamo arrivando quando parlate di big look ci arriviamo e hai seguito dei corsi online in particolare che ti posti ti hanno aiutato oppure ti è stato abbastanza autodidatta io non avevo un soldo diciamo quando ero più piccolo infatti non viavo non facevo niente perché non fisicamente non non potevo e sono sempre stato dell'idea che i corsi sono utili per chi ha magari meno tempo e più soldi perché ti organizzano quello se fatti bene ovviamente ti organizzano quello che sono delle cose che magari troveresti gratis online ok però fanno un sacco di lavoro per te te lo organizzano te lo ti mettono già le cose che ti servono eccetera eccetera io avevo tanto tempo di fatto l'opposto cercato fra tutte le risorse gratis che c'erano fortunatamente mastichevo poi un po di inglese dopo un po e quindi per esempio per le animazioni ho visto un po di tutorial gratuiti e c'era un mondo di roba stessa cosa per il videomaking poi anzi ero pure stupido perché c'erano tante risorse online comunque sbatterci la testa e metterci il deck dieci volte tanto per imparare ma non perché fosse intelligente cosa proprio mi dimenticavo che esisteva un tutorial e ho seguito un corso però nella mia vita un corso ho pagato ben 37 dollari ed era un corco se lo racconto sempre è il corso per rimorchiare e avevo ben gennaio me lo ricordo bene gennaio 2006 no sì gennaio 2016 seguivo il canale simple pickups che facciavano tipo esperimenti sociali dove rimorchiavano ragazze a los angeles ma una roba come fanno uscire una playlist gratis su youtube di video dove loro dicono la loro su come avere più self confidence ed erano tutta una serie poi con l'obiettivo di convertire in questo loro corso che fra io io sono contro i corsi di soluzione cioè sono una cosa orribile anche che utilizzano questi gerghi proprio maschilismo eppure eppure qualcosina l'ho trovata di sensato interessante 37 dollari io già un pochino al tempo a 18 anni un po prendevo e quindi ecco penso tu orgogliosamente dici io non ho mai chiesto cioè mi sono sempre autofinanziato queste attività di corsi viaggi anche se non ci sembri niente di male adesso si fatti finanziare da fonti esterne assolutamente allora no mio padre mi ha aiutato a craccare tutti i programmi quando ero piccolo mi hanno i miei sei a natale comunque mi regalavano il microfono o cumulando un po nonna papà mamma ho comprato la tavoletta grafica e quindi proprio l'inizio l'inizio effettivamente mi hanno aiutato poi c'è stata l'assenza di youtube che mi dava pochi soldi ma quanto basta per comprare l'attrezzatura quindi arrivavano magari 100 200 euro al mese però al liceo una paghetta gigantesca e quindi poi per esempio l'attrezzatura quella già in quarto e quinto liceo l'ho comprata con i miei soldi e poi inizierò a lavorare subito dopo tante cose erano gratis poi perché specialmente ai primi tempi di youtube c'era meno discorso di essere pagati ma c'era molto lo scambio merce quindi tante cose le ho ottenute gratuitamente perché mi dicevano ci fai un video su youtube o lo nomini questo video e quindi mi sono riempito anche di viaggi anche di cose sono inutili perché c'era questo scambio merce continuo continuo quindi diciamo che ecco rispondendo anche a quella domanda di prima non hai speso cifre blu per iniziare a professionalizzarti dopo sicuramente avrai investito immagino di più collaboratori non solo attrezzature ma anche collaboratori che devi avere ho speso allora il primo la prima spesa che ho fatto è stata 120 euro di tavoletta grafica e la prima tavoletta grafica si poi 100 euro 150 euro di microfono i blu yeti e quello tutto era valido l'ho ricomprato perché mi si è rotto quello primo e poi una spesa grossa è stata 500 euro di canon quando ho iniziato a fare i primi blog e quella è stata questa scuola che è stata con i miei soldi sarà molto ponderata infatti prima di comprarla ero già un esperto di canon ancora prima di comprarlo è diventato leggendo le recensioni le guide esatto esatto e poi la spesa grossa grossa sono stati 1.300 euro di tavoletta grafica quella grande profanale studi e però quello è stato un proprio investimento perché ho dimezzato il tempo di lavoro per fare video al tempo e dato che iniziavo a lavorare proprio con quei video animati è stato un investimento nel vero senso della parola che ti ha ti ha portato insomma se sei stato ben contento di aver fatto la risposta diceva massimo mi sono perso la risposta big luca no in realtà a si spedico parla qui a breve ne parliamo ragazzi so che non voi voi state qui marcello loro stanno qui per questo cioè noi stiamo facendo giustamente allora ti facevo una domanda questa ecco una domanda che ti fa sempre il dottor zimal e tra giro riguarda big il tuo nuovo amico secondo voi perché il big è passato dalle live in piscina al completo elegante ha compreso che i tempi sono cambiati che bisogna quantomeno sembrare seri mentre queste opinioni nostre in libertà eh non è che però secondo te sono interessato anche secondo te come mai e si è effettivamente sembra aver cambiato un po pelle almeno per quanto riguarda l'aspetto ma secondo me lui fra tutti mi sembra uno dei più consapevoli di quello che fa quindi eh secondo me faceva le live in piscina consapevole di andare a prendere quel pubblico molto interessato a fare soldi facili o comunque molto sensibile a a certi trigger quindi la lamborghini la piscina dubai e non è necessariamente un pubblico di disperati anche persone come lui ha fatto notare magari anche persone che poi magari sono veramente potessi sono in quella che si chiama la nicchia make money cioè non sono interessati al come non sono interessati al fine cioè voglio fare i soldi no e quindi ovviamente se li ha presi poi piano piano eh lui sta facendo un percorso in cui eh si è lanciato come il pezzo di merda si è lanciato come quello che ti dice le cose in faccia piano piano si sta umanizzando perché vuole ampliare il suo bacino totale per farlo deve dividere un po' meno quindi all'inizio divideva tanto aveva un 90 per cento di merda un 10 per cento invece ce la faceva a prendersi ed era un 10 per cento di proprio adepti piano piano se vuoi ampliare il pubblico devi dividere un po' meno e quindi sei più simpatico sei più serio sei più arrivabile presentabile diciamo no meno improponibile su alcune cose poi tu mi hai detto mi hai confessato ce lo siamo confessati a vicenda a me me ne fanno una colpa a me sa anche simpatico il big cioè mi fa anche ridere perché è bravo io gli ho riconosciuto anche delle ottime dotti da comunicatore e anche da comico perché lui è un comico venditore cioè riesce a sai a farti sorridere perché poi come dice salve dal più milionario di dubai è chiaro che l'anno sta scherzando però gioca su questo serio faceto scherzato intanto ti ho detto che sono il più milionario di dubai poi è chiaro che è una butad no però te la dico poi lui è stato il suo posizionamento iniziale tu hai fatto un'analisi molto intelligente altro che cioè lui è stato strategicamente tutto quello che ha fatto lui è stato molto ben ponderato e quello che ho notato è che la sfizza guresca dubaina quando non sono proprio i suoi studenti come il makorig quindi i suoi prodotti lo seguono cioè lui fa il corso su youtube e gli altri fanno il corso su youtube lui fa la parte con la membership gli altri fanno la parte sulla membership devo dire tu parlavi di we wash che è stato un po il primo no e all'epoca andavano i travestimenti le parrucche lui era un bravissimo attore no in realtà io credo che il big sia stato da un punto di vista di personal branding il primo che è arrivato in italia con presentandosi come il personaggio sborone che ti sbatte i soldi in faccia quasi te li conta in faccia ed è una roba che era molto dividente in italia perché in italia abbiamo una cultura diversa non ci piace molto parlare di soldi no anche chi ne fa di solito lo nasconde non lo vuole far sapere anzi quasi vuole sembrare povero cioè noi noi siamo un po il paese degli anni e fotti cioè se io ho tanti soldi a meno che non sono un certo tipo di persona magari un cafone arricchito cerco quasi di dissimulare il fatto che ho tanti soldi no sì 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 certo è così ricca perché è così ricca fate due domande sempre così mi dicevano è taccagna diciamo sta lo profile non si fa vedere in ferrari di solito quelli che hanno voluto dire sono gli arricchiti in pochissimo tempo cioè quelli che hanno vinto la lotteria banalmente si compra il macchinone quelli che hanno ereditato l'azienda di famiglia quindi nella vita non si sono mai dovuti studiare niente o quelli che hanno fatto soldi facili con degli schemi tu dicevi una cosa intelligente che io dico sempre marcello perché adesso partiamo analizzare la questione big luca lui nel video che ha dedicato a montemagno dice testualmente l'ho visto tutto l'avrai visto immagino anche tu come visto il tuo lui dice la c'è un mio amico che guadagna 150k l'anno che è un avvocato è un professionista e lui un po rosica viene da me rosica che dice cavolo io sono avvocato ho stato tanti anni ho fatto tanta gavette e tu arrivi da nulla facevi quindi un po lo cammino dell'eroe no lo storytelling e facevi il butta fuori fino a qualche volta adesso guadagno io 20 30 volte a fare un conto 20 30 volte sono 4 milioni e diceva tu dicevi messo lui li guadagna per me sanno che non abbiamo nulla che lo dimostri non abbiamo bilanci non abbiamo nulla di certifica niente quindi sono io e te stasera potremmo dire adesso in diretta potremmo dire io guadagno 2 milioni e marcello guadagna 3 poi però io e te siamo in Italia partita IVA si vede se stiamo dicendo cazzate diciamo noi ci fidiamo diciamo che li fa questi 4 milioni però tu spingevi su un punto che a me interessa molto come ti stai facendo vendendo cosa a chi perché altrimenti rischiamo di diventare dei riduzionisti dei pragmatisti cinici ecco rientriamo nel voglio far soldi come non è importante esatto io diciamo questo discorso lo faccio quando si parla dell'autorevolezza della persona a cui sta comprando il corso o il libro anche quindi per esempio puoi avere un libro su come avere successo scritto da una persona che ha avuto successo vendendo libri su come avere successo o per comprare un libro su cui avere successo da qualcuno che ha avuto successo ok esempio classico principles by ray dalio lui ti parla dei suoi principi ok non è sezionalistico bla 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 tutte queste cose qua ti promette effettivamente rientra se vuoi essere specifico rientra nella nicchia dei libri di self help nonostante lui sia completamente fuori da questo mondo eppure lui ovviamente non è diventato ricco in quel modo e non è neanche la ricchezza poi il punto finale di quel libro là è un libro molto poi pratico e preferisco leggere un libro scritto da qualcuno che ha avuto successo in un'altra maniera ovviamente no e non che ne so napoleon hill questa gente qua che famosa e ricca per aver insegnato alle persone su come essere famose e ricche e è un po' il fake anti du make it ok quindi io parto con questa roba quando funziona dimostro di averlo ce l'ha fatta e i venditori di corsi alcune volte fanno un po' così nel senso che non hanno niente da poter dimostrare quindi tu gli chiedi ok sei veramente ricco come fatto venendo corsi su come diventare ricco nella base cosa facevi il problema e sì perché poi dovresti dire che o riesce a creare dei tuoi cloni che a loro volta vendono corsi su come diventare ricchi all'infinito oppure di base come qual è un anzi è un fenomeno piuttosto diffuso che tu vedi questi piccoli lo chiamo l'esercito dei cloni perché tu vedi questi cloni che vendono corsi su come fare soldi dopo che hanno fatto corsi su come fare soldi per fare soldi e quindi fa ridere ma in realtà è un fenomeno che è diventato anche abbastanza preoccupante perché si è iniziato a diffondere tra i ragazzini molto giovani 16 17 18 anni che hanno detto vabbè la scuola non serve a niente se non serve a niente adesso faccio i soldi e io in sei mesi in otto mesi in dodici mesi in realtà l'abbiamo visto con te ma con tante altre storie di reale è successo ci vuole tempo poi tu puoi trovare la cash cow no improvvisa e pam fai soldi no e diceva io veramente in un anno ho fatto 200 mila euro che non è non sei diventato milionario però se ne hai fatti 200 netti è un è un bel risultato in un anno no ma è appunto un risultato piuttosto raro non è la regola vendere questa cosa come potenziale regola secondo me dicendo poi qui vengo all'altra domanda che voglio fare ma basta che ti fai il culo un generico ti fai il culo e ci arrivi anche tu per me lì c'è una una mala fede di base ma tu perché hai scelto di fare quel video che ha fatto incazzare molti guru che si sono presi una sorpresa per te immagino tu non abbia dormito la notte per il messaggio di pittaluga che era deluso diceva io ti seguivo adesso non ti seguo più immagino che per te sia stato un duro colpo psicologico che si è andato in analisi a parte le battute come mai hai scelto di allora ho scelto di fare quel video perché avevo intenzione di vendere anch'io un mio corso a un certo punto tant'è che poi ho venduto l'area membri e tutto quanto purtroppo adesso vendere corsi proprio per colpa di questo fenomeno ti posiziona insieme a loro quindi ti posiziona come dice tra l'altro di club ti posiziona nella nicchia make money ok a me non interessa essere nella nicchia infatti ho fatto poi avevo venduto un corso su come crescere su youtube e distorcendo questa informazione è stato spacciato come ho fatto un corso su come fare soldi su youtube io non sono un esperto di questo sono un esperto di come si cresce su youtube infatti è questo che ho raccontato e volevo alcune persone purtroppo sono appunto erano molto molto confuse molti ragazzi giovani specialmente alcuni sono svegli e dicono big luca mi fa ridere perché fa le battute perché è controverso altri invece dicono big luca è un grande perché è il più grande esperto di marketing di dubai capito no e perché lui ha imparato da dan kennedy allora ti chiedi ok c'è qualcuno che ride c'è qualcuno che ci casca ok nonostante siano battute allora ho detto sai cosa dico la mia e faccio un video a riguardo io ormai ho queste informazioni qua in realtà non sono neanche stato particolarmente aggressivo cioè io ho detto questi sono i miei indizi ho detto sono i miei indizi non è detto che poi sia fuffa necessariamente e soprattutto non è neanche detto che ciò che andate a comprare non sia valido semplicemente potrebbe costare troppo per voi cioè se voi non potete permettere quello verosimilmente bravo per voi questo è un altro tema sì magari duemila euro a uno che ne guadagna mille al mese vabbè big luca dice che non è vero che tu devi fare i pippe con l'etica nel video che fa su montemagno dice vedi c'è una linea tu più ti allontani dalla linea dell'etica più fai soldi ecco questo secondo me prevedi sì lui lo dice ridendo scherzando ma ci crede perché oggettivamente sembra ossessionato dai soldi a fare i soldi cioè big luca è uno che parla solo di soldi parla solo di fare i soldi se devi fare i soldi come devi fare i soldi e qui secondo me se lui lo fa seriamente forse un'analisi dovrebbe farla perché quello che a me spaventa un po' e sono contento che persone come te come Franz il tuo amico prima anche di te so che siete amici vi conoscete da tempo ha fatto quel video che io 2018 fighissimo tra l'altro perché ci vuole un contattale perché ti rischia di passare l'idea che l'unico modo per vivere sia ambire a far soldi per soldi e che quello deve essere l'obiettivo invece dico sempre che spesso paradossalmente se la tua ossessione è fare i soldi rischi di non fare i soldi rischi di buttarli perché diventi un opportunity seeker quindi che cerca di fare i soldi alla menpeggio e di poi cadere nei tranelli di chi ti crea l'hype ti crea il personaggio allora dare una visione diversa quando Big Luca nell'analisi che fa te diciamo lui ti ha fatto una consulenza gratuita immagino che tu lo abbia anche ringraziato dove ti ha spiegato perché tu non sai fare soldi su YouTube e in realtà ti ha affredito un po' un assist per quello che tu dicevi infatti io non ho fatto video dove vi spiego come diventare ricchi con YouTube io ho provato di crescere su YouTube di avere una community poi per te 150 mila all'anno 100 mila all'anno possono essere un buon traguardo per altri no e lui fa secondo me un giochetto un po' scorretto e lì vediamo l'altra faccia del Big Luca dice ma Scani parla dei suoi quattro spicci come se fosse diventato ricco e questo denota il fatto che lui sia in realtà povero abbia il mindset del povero invece io voglio che lo dici tu non voglio parlare tu quel video che dici? quel video dove parli dei tuoi guadagni? l'esatto contrario no esatto esatto io ne ho fatti due nel primo era il 2019 nel secondo analizzavo il 2020 in entrambi ho detto che può sembrare tanta cioè può sembrare tanto come fatturato perché da fuori magari uno non sa come funziona un SRL e tutto in realtà ci sono appunto ho proprio fatto l'esempio ci sono miei colleghi con numeri più bassi che fanno molti più soldi di me perché magari spremono con la fatta infatti nel video dico anche adesso non è una mia priorità diventare ricco cerco di crescere il più possibile e Big Luca infatti poi ha ripreso poi questa mia frase dicendo eh lo dice perché scrive soldi invece no io ho ovviamente uno dei miei obiettivi è arricchirmi anche solo che non è il mio unico obiettivo e qua è un po' la differenza che dicevi tu in realtà nei suoi nelle sue consulenze ha detto delle cose logicamente lineari e sensate e corrette ciò che cambia è l'obiettivo cioè io per esempio trago beneficio sia dal denaro ma anche per esempio dal giudizio che hanno gli altri nei miei confronti e ci tengo a non diventare come lui perché non voglio che in mezza Italia mi odi ok io voglio che la gente voglia bene e mi piace si chiama status cioè è riconosciuto lo status piace agli esseri umani ok e io faccio l'obiettivo esatto ha un valore che non è quello che no chi pensa solo l'importante è fare i soldi ha un valore che non vuoi fare non è un valore in denaro esatto in denaro perché se io faccio sempre l'esempio estremo iperbolico tutto cito sempre di Pablo Escobar è chiaro che di Luca non dice che devi diventare diventare uno spacciatore però se l'ossessione diventa solo fare soldi voglio diventare potente a quel punto vai a spacciare perché voglio dire l'obiettivo è quello per questo tu dici una cosa sacrosanta dici io voglio anche star bene con me stesso e sapere che i soldi che faccio che comunque non sono non è che sono povero non ho problemi arrivare alla fine del mese non sono lì non sono milionario per ora però ecco sto tranquillo ho raggiunto la mia tranquillità economica anche la mia soddisfazione personale e professionale voglio che la gente mi voglia bene ha detto una bella frase poi non puoi piacere a tutti c'è anche Gandhi che c'è i pollici versi e Gesù Cristo che ha i pollici versi su YouTube quindi ci sarà sempre chi ti odierà chi dirà che gli stai sulle palle ma questo tu lo sai benissimo fa parte del lavoro però tu dici io voglio essere il più pulito possibile ho scelto una strada che è la mia voglio essere me stesso cioè a me soddisfa non mentire soddisfare quindi lui mi dice anche eh questa faccia pulita non ti aiuta sei troppo poco controverso il senso era quello e io invece non è che ho costruito il mio essere poco controverso io sono così è il mio modo di essere non lo cambierei mai non lo hai costruito raggo la mia soddisfazione dal fare quello che faccio e sul discorso dei soldi mi ha diciamo ha spesso messo l'aceto sul fatto che non fossero abbastanza per me e e invece è un grave errore perché da un lato quasi mi fa gioco perché mi fa passare come quello troppo povero per quello che fai io ho quasi detto guarda che questa cosa quasi mi fa gioco per il mio pubblico che invece non è quello che vuole comprare e diventare ricchissimo perché però in realtà non è corretta perché al momento fortunatamente non è vero che di quei soldi che ho fatto se ne vanno che lui ha fatto due caccoli improvvisi e ha detto vede ma ce lo rimane zero e invece non è vero fortunatamente riesco a mettere la patria riesco a vivere insomma in maniera super soddisfacente e soprattutto un trend in crescita ma vabbè per gli agi insomma fai una vita che non si può certo dire brutto noiosa o monotona non frustrante non frustrante ecco perché poi l'altro elemento braviso sul quale si gioca sempre è vabbè ma quello Marcello e Germano sono poveri o non sono abbastanza ricchi quindi sono frustrati è il classico gioco da volpe e l'uva non c'hanno i soldi e dicono che i soldi non sono importanti e io farei un ribaltamento se non hai un certo tipo di valori se non sei cresciuto con un certo tipo di valore non c'è un certo tipo di animo non lo puoi capire cioè se la tua sessione è stato far soldi forse anche da quando eri ragazzino era far soldi a 16 anni far soldi far soldi non puoi capire chi non ha questo mindset questo imprinting dovresti però cercare di capire percepire l'idea concepire l'idea che ci siano altri che hanno idee diverse dalle tue probabilmente lo concepisce ma era un video che chiaramente è voluto poi alla vendita del corso eh certo ti ha usato ti dovevi dare un po' di royalties ma è un video perché io non ho risposto mai neanche con una parola neanche con una storia niente nulla è perché ovviamente avrei portato vendite no? però mi sarebbe piaciuto invece uno scontro senza poi un corso da vendere perché io mi dicevo cazzo poi facciamo uno scontro e ovvio che vi porto il pubblico non finalizzato uno scontro molto divertente sì 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 allora scusa mi diceva Claudio prima che tanto al po' finiamo ti libero allora ciao Germano ciao Marcello allora secondo me fai un esempio 5k al mese facendo self poi cominci a farne vendi insegnando ad altri a fare self publishing no? sicuramente smetterai di fare ciò che ti fa fare 5 insegni e basta se tu dici altre persone a fare potenzialmente 5k al mese quindi dai molto valore al mercato è giusto che tu venga pagato tanto più rispetto a quanto guadagnavi con la skill stessa questo è un tema che diciamo anche giù è un tema interessante secondo me anche se sì no non sono un disaccordo non sono un disaccordo assolutamente puoi dimostrare di averlo fatto e puoi insegnarlo e ovviamente c'è tutto un discorso io ho un amico io non amo il trading e anzi penso per esempio che il trading parlo del trading perché ora faccio un esempio e penso anche forse il trading in sé proprio non lo ritengo valido come cosa però ho un amico e vende i corsi di trading ok e non è un fuffarolo per esempio o un fuffaguru perché se vai sul suo sito non c'è la Lamborghini non c'è niente non c'è lui che ti promette cose è molto ha una vendita molto basata sulla tecnica cioè chi è interessato a voler fare quella cosa compra il corso su quella cosa ora se io faccio un corso sul self publishing va benissimo basta che io ti stia vendendo il self publishing non ti stia vendendo il sogno perché quella è la differenza esatto che io ti vendo il sogno che la tua vita cambia e spingo moltissimo moltissimo tantissimo non è illegale ragazzi è una roba che può essere tra la pubblicità ingannevole o una roba che è semplicemente non etica non morale poi ricordiamo questa è una cosa nota big ne ha parlato giustamente diceva mister rip l'amico mister rip non ho visto questo famoso video sul serio che tu anche hai citato guadagna poco più 100% rispetto al 2019 a 20 anni è poco non è affatto poco è chiaro che ci sono anche dei costi Marcello lo dice non è che sono soldi che metto in tasca a parte soltanto già se pensi a tasse e contributi è chiaro che non sono soldi netti però è un gran bel risultato e soprattutto ricordiamo che per esempio big credo che sui primi 100k Marcello i primi 100% li ha fatti con mobbe mobbe poi vedi quando uno è ossessionato da fare soldi magari cade in ponzi similponzi piramidali raggira altra gente e poi dopo deve fare quei tripisarti carpiati mortali come ha fatto il big nel suo posto dice no ma non è un ponzi la sentenza non domina mai il ponzi li vedi furbetto in realtà io la sentenza l'ho letta tutta e chi ha un minimo di cultura giuridica sa che quando in una sentenza si cita il commento di un cliente che parla di ponzi di fatto la sentenza sta dicendo che quello è uno schema ponzi poi non lo ha scritto formalmente ma se anche vedevi come funzionava mobbe mobbe non so se hai mai approfondito non ho avuto questo tempo da perdere comunque mob era dai Marcello entra dentro porta dentro gente più gente porti più guadagni passivamente a un piramidale a me a occhio sembrerebbe un piramidale poi lui diceva no è stato chiuso per pubblicità ingannevole no biggie pubblicità ingannevole non ti chiudono ti multano se ti chiudono l'azienda e dicono togliete tutto togliete le licenze togliete i siti è perché stai truffando la gente è diverso dalla pubblicità ingannevole sono due fatti specie una diritto al consumo l'altra nel penal diverso scusami Marcello poi tra l'altro io nel mio video per esempio tutto l'aspetto dell'illegalità non l'ho neanche considerato io ho solamente parlato di cose legali ma semplicemente che non vale la pena approcciare ecco che è molto diverso e molti dicono ma lui è un truffatore attento non mi ha detto che è un truffatore fuffa non dire truffa è una cosa differente certo certo può essere un manipolatore può essere esatto poi anche io lo dico sempre nei video non parlate di truffa non parlare di truffatore anche perché quando c'è una truffa ed è evidente tu la racconti senza parlare di truffa non c'è bisogno cioè la gente poi si fa la sua idea capisce poi sarà un giudice una sentenza eventualmente a dire se quella è una truffa o no io l'unica volta che ho parlato di truffa e di schema di ponzi era quando c'era una sentenza diceva no guarda quello è uno schema ponzi ed era una truffa fine allora lì se tu lo hai promosso per tre anni e te ne sei vantato sei stato artefice anche tu di una truffa cioè poi che Marcello Germano non siano stati condannati ma semplicemente perché non li hanno denunciati nessuno non li hanno beccati questo è un altro tema molto ampio comunque qua c'è una domanda ti dice come mai non te ne vai ti conviene stare in Italia come mai non ti sei spostato in UK è una domanda bellissima perché non in Brasile oppure in Portogallo no guarda in realtà ci ho pensato perché YouTube non sempre ti lega al tuo paese nel mio caso sono molto molto legato al mio paese come centro di interessi e anche come centro di come si dice di affatto c'è un termine tecnico comunque il mio giro d'affari è tutto in Italia quindi non sarebbe corretto andare all'estero ti devi trasferire ti devi trasferire in UK però trasferendoti in UK dovevi fare anche il doppio dei soldi che fai qua perché lì la vita costa un po' poi dipende dove vai a vivere no no in UK ci andrei volentieri ma proprio sarebbe essere una restizione in quanto io lavoro cioè faccio eventi in Italia lavoro con clienti italiani il mio centro di interesse è l'Italia o cambio vita e modifico un po' il mio lavoro che si può fare oppure me ne resta l'Italia e continuo a fare quello che faccio è un discorso molto per ora non me la sento di cambiare vita solo perché pago meno tasse ecco ecco quindi non sei a Dubai al momento non hai ricreato la tua cameretta lì a Dubai no io come un amico dicevo andiamoci a Dubai che non si pagano le tasse tu te la senti di andare in un posto con uno shikana merda che ti porta questo è la verità solo perché così non paghi le tasse e dai allora dice qui Big non insegna diventare ricco ma un insieme di strategia cattara monetizzazione sembra sottile ma non sono completamente d'accordo su questa cosa perché in realtà lui ti parla sempre di soldi dice quanto è ricco lui ti spiega quanto è ricco lui ti spiega come diventa ricco con l'iTicket e lui vende i corsi sull'iTicket ti spiega come monetizzare su YouTube come lui e lui vende quindi non è proprio così sì ti vende anche delle strategie non so tu come la pensi in sintesi in supersintesi lo specchio per la loda e la ricchezza lui vende la tecnica che lui utilizza per vendere e in questo è chiaro a differenza di molti lui in questo è chiaro lui ti vende come lui vende e ti insegna a diventare se stesso fondamentalmente tanto è che nella consulenza che ci ha fatto la sintesi potrebbe essere perché non diventate come me era quella perché non siete come me potreste essere come me perché non lo siete e ci sono e ci sta e quello che vuoi fare è quello vabbè ma lui diciamolo ti ha nominato a te e a Montemagno sia perché un po' forse è stato mandato avanti dagli altri per il tuo video che hai fatto ma perché come tu hai detto gli faceva gioco per posizionarsi cercare di prendere anche qualcuno da te la tua nicchia un nome famoso molto più famoso di lui perché tu sei molto più conosciuto di Big Luca su YouTube se guardiamo un pubblico generalista è chiaro nel segmento esatto McMoney magari a te non ti conosce nessuno e a lui molti più perché dice se io riesco a beccare dieci clienti tra i follower di Marcello Ascani sono dieci clienti come tu dicevi no? sei un po' ristretto perché poi loro agiscono nel mercato italiano e il mercato italiano è piccolo lo ha detto anche lui il mercato è piccolo quindi si satura facilmente ci sono i quelli che io chiamo i collezionisti di corsi quelli che li compro non sono sempre gli stessi fido quel giro è finito allora io ti libero tra massimo dieci minuti voglio dire solo se c'è qualche altra domanda diceva Mr. Rip andare in UK andare a Dubai ho già un po' di commenti al volo che non li ho proprio pensati diventare Pablo e scopata a senso se la funzione è massizzata il denaro sì questo è un commento con il quale penso che siamo tutti quanti d'accordo Marcello compra il corso Marcello compra il corso a tubo duro e faccio una recensione forse sarà l'unica recensione vera della carità del big guarda sarebbe una figata secondo me sta roba è vero che ci ho pensato ci ho pensato e ti dirò che sono tentato perché io sono abbastanza sicuro e qua lo dico che qualcosa magari di interessante lo trovo pure e questo è il vero discorso perché non c'è nulla di nero e bianco cioè lui sono sicuro che avrà delle competenze da dare è tutto il resto che non mi piace sicuro sarebbe però divertente una recensione di Marcello Ascani del video a tubo duro anche se lui direbbe vabbè ma io faccio un video per far soldi lui non fa soldi su YouTube lui fa con nulla ci sto pensando facciamo un gruppo d'acquisto Marcello facciamo un gruppo d'acquisto lo compriamo non si può fare non si può fare no no attenzione lo compri tu lo recensisci tu l'accesso è solo tuo però nulla ci vieta di dire ok facciamo una colletta è una colletta una donazione a Marcello a cento di noi lo compra lui se lo vede lui ce lo recensisce e ci dice questo a me sarebbe una figata Claudio diceva ultima domanda sono stati tolti tutti i due video di Big questo volevo saperlo anch'io Monti ci è riuscito hai chiesto tu la rimozione del tuo o l'ha rimosso lui no io non l'ho chiesta quindi è stato tutto merito di di Montemagno c'è da dire una cosa io non l'ho chiesta perché io ci ho pensato su una serata in serie ok il video aveva poche views ho detto ok finché rimane nei suoi a me fa quasi gioco ok perché un po' di persone secondo me che si interessano a me grazie a tutti è successo che diventano un po' di massa il video perché è stato un meme è diventato in quei giorni anche alcuni streamer che non c'entrano un cavolo l'hanno pensato con gli twitch mi sono spaventato perché ho fatto diventando un meme tutti ci divertiamo ma come al solito c'è quel 10% che invece ci casca ok cioè in questo mara quindi l'ero tentato ho parlato con mio avvocato ho detto guarda qua 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 abbiamo delle leve ma nulla di particolare tu intanto scarica il video e poi in realtà ho pensato che non è il caso mi faceva gioco poi lui in realtà mi fa passare come il poverino che non fa soldi ok sì non è che ti ha diffamato in quel video dal tuo bucciata per quello che fai tu diciamo no esatto ma soprattutto io non mi vendo come esperto non l'ho mai fatto e mi vendo effettivamente come ragazzo che sta imparando quindi quasi cioè lui mi sta quasi incolpando di una cosa che io dico tutti i giorni cioè io non sono ancora non sono ancora non so perché è vero no mentre Montemagno è differente cioè Montemagno si vende perché si vende come arrivato perché è giusto no perché ha avuto la sua carriera c'è la sua età non è un ragazzino che sta imparando e quindi per me il banno è più importante perché se tu accusi i miei di non essere competente io non ti vendo la consulenza agendale per vendere perché non ti fai 5 mila euro all'ora certo certo non è il tuo campo o magari te la vendo ma ti vendo un'altra cosa non quello di cui parla Big Luca ok magari di influencer marketing magari YouTube magari quella roba sì prima o poi lo farò Montemagno invece è proprio il marketing che tratta e si vende come esperto di marketing e quindi per lui il danno è molto più grande quindi immagino che lui si sia anche alzato e abbia inviato qualche lettera all'avvocato e comunque non sono i suoi video i video sono non in elenco non in elenco non in elenco chissà perché il tuo l'ha messo non in elenco poi tu l'hai capito hai capito qualcuno te l'ha detto secondo me è imbeddato in qualche sua presentazione nel dominio però non gli conviene che sia pubblico dico perché poi chissà se forse si è reso conto che ti poteva far gioco che quasi ne uscivi no bene perché lui diceva coinciditi uno vietà uno che fa il prete quello fa il prete eh sì lo so sto dicendo a 10 anni e faccio il prete non lo so non lo so secondo me ha deciso sai che c'è l'evo quello di Montemagno e l'evo pure quello di Marcello è fine perché non lo disposto eh non te lo sai proprio sì hai usato la loro tecnica del non cagarsi nessuno lui invece ha fatto una cosa che non aveva mai fatto nessuno prima ha nominato altri dopo che hanno criticato me per un anno dicendo che io li nominavo per diventare famoso a danni loro poi lui l'ha fatto e in realtà dicevo e penso che tu sei d'accordo che nel caso di Montemagno l'hai appena detto capisco anche che Montemagno si sia incazzato e lì c'erano anche gli estremi per la concorrenza sleale perché lì è una nicchia molto simile cioè tu dici a Montemagno Montemagno non sa fare soldi Montemagno è proprio agli antipodi eh lì lo stai cioè lo stai distruggendo voglio dire non stai dicendo a Scani perché dici a Scani non fa soldi a Scani sti cazzi io non mi propongo come quello che si sa fare soldi Montemagno c'è una delegittimazione reale del personale è stato parecchio aggressivo ha anche detto ha esplicitamente è stato molto più aggressivo rispetto a me ha esplicitamente detto che non è competente mentre a me non ha mai detto a lui ha detto non è competente è gravissimo secondo me eh certo cioè tu gli hai dato dell'incompetente perché poi che dici che non sei competente è uguale gli hai detto guarda poi magari uno può discutere se è vero o non è vero è vero in parte si analizza se effettivamente la carriera di Montemagno è tutta sta grande carriera se può chiedere 5 per carità è legittimo però e qui chiudiamo quello che diceva al Big stai attento perché non sei un giornalista sei un diretto competente di Montemagno e quindi anche se in parte hai ragione se ti vuole far causa secondo me il mio parere ti può fare un mazzo a tarallo perché può dimostrare facilmente che c'è una malafede c'è una una serie commerciale di posizionamento nel mio caso non si può dire perché io non faccio consulenze ad aziende a 5k allora o nel tuo cioè paradossalmente tu potresti attaccare Montemagno dici guarda a me Montemagno è antipatico e se non mi fa questo ma non te ne frega niente di farlo perché non è il tuo lavoro ma non sei concorrente suo quindi voglio dire potrebbe contestarti le cose false e finirebbe là ragazzi io ringrazio voi non voglio trattenere ultimamente Marcello che penso voglio andare a mangiare cosa mangi Marcello ci vuoi dire anche la tua dieta visto che fa una bella pasta non fai digiuno oggi non fai digiuno oggi no oggi no allora a parte scherzi Marcello ti ringrazio è stata una bellissima live come immaginavo ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito io saluto Marcello restate con me per altri due minuti perché vi anticipo un po' di cose importanti e le prossime live tra l'altro Marcello lo dico anche a te magari ti mando il link così quando se avrai tempo e poi non te la seguirai o dopo in podcast farò una diretta proprio su Montemagno con un fact checking sulla vera storia da imprenditore di successo e start-upper di Marco Montemagno perché c'è tanta tanta carne a cuocere e devo dire che è il big io su questo lo ringrazio perché mi ha dato il là per un lavoro di approfondimento molto molto interessante vi premetto non andrò a distruggere Montemagno ma ci sono secondo me dei elementi interessanti perché Montemagno credo Marcello non voglio farti dire cose penso che concordi che ha un po' anche lui delle caratteristiche guresche in alcune cose in realtà io non ho fatto io lui lo conosco personalmente mi sta molto simpatico mi ha anche aiutato quando l'ho conosciuto e io in realtà in lui non trovo molte caratteristiche guresche lo trovo lo trovo un po' ha delle caratteristiche da boomer nel senso che non ha un linguaggio da aiutare tante volte e quindi anche il suo modo di fare internet è particolare però da esterno l'ho sempre trovato molto clean non ho mai venduto il suo infatti io ripeto non farò un video dove però quando dice non sono motivatore poi fai video motivazionali lì insomma c'è un po' di no di parapulismo allora stesso discorso perché dice di non essere un guru motivatore è perché quello che intende veramente lui è io non sono Big Luca è quella la vera cosa che intende non sono quelli lui soffre dello stesso problema di cui in pochissima parte soffro io quando parlo di soldi e cioè che appena parli di soldi ti associano ai fuffa guru perché ormai c'è solo quello e lui soffrirà tanto di questa cosa e quindi cerca di distaccarsene quando comunque poi lui cerca di fare in maniera legge cose che va bene grazie Marcello buon pranzo spero magari abbia un modo di fare qualche altra diretta più in là intanto grazie ancora per aver accettato l'invito so che sei molto impegnato come tutti noi e ti ringrazio per questo bellissimo confronto ciao Marcello ciao 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 allora ragazzi io ho salutato Marcello e lo ringrazio poi lo scriverò tanto due giusto due minuti per ricordarvi che la settimana prossima abbiamo la diretta di approfondimento su Montemagno che credo vi interesserà molto tra l'altro ho visto che oggi lo spammer Lentini è sparito non è comparso non si è fatto vedere niente di niente chissà saranno raccogliendo le prove spero che la diretta vi sia piaciuta molto io a me è il mio giudizio quindi mi rifaccio al vostro sono coinvolto l'ho tenuta mi è piaciuto molto Marcello è un ragazzo molto molto intelligente che è nato per fare questo nato per per parlare davanti a uno schermo e penso che abbia dato una bella testimonianza genuina di un percorso sano che lui ha ha fatto e che è appunto un percorso pulito ha chiarito anche la questione sul corso che lui lanciò non so se ne lancerà un altro però ha voluto insomma differenziarci e spiegare spiegarci come ci si posiziona e direi che ha preso anche molto sportivamente il video del big anche perché non è stato un video massacrante intanto dice Marcello ti mancano per niente ti manca come mancano le moroidi c'è un altro video qua diceva Roberto che in realtà il video in cui si rivolge è visibile in elenco quindi c'è in realtà c'è forse lo ha rimesso visibile ragazzi io vi ringrazio per essere stati con me e Marcello oggi vi saluto e ci vediamo alla prossima live ciao ciao